Il video più cliccato del momento, quello di Marcella. Ma io sono sconforto, mai è successa una cosa. Guarda, 3.000 persone nel giro di 24 ore. Continua ad essere cliccate. Sono felice di questo lavoro di Marcella perché ti assicuro, penso che sia la voce più bella italiana che abbiamo. Lei si è messa a disposizione, non imitando Selea Cruzio o Gloria Estefan, è l'unica cantante italiana che fa questo genere di musica. Tant'è vero il 25 di gennaio sarà in Messico che vogliono fare un grande lancio di Marcella Bella. Dopo tutti questi soldi che ho sborsato per realizzare questo lavoro, spero di poterle ricavare. Ma lì, capo mio, non si prende neanche un soldi. Ma parli solo di soldi, Margioglio. Beh, certo. Ma come mai? Ma mica posso parlare di uomini, scusa. Amore, anche perché la Maggi non ha ancora trovato il guido della situazione, l'uomo col portafoglio ripieno. Ma che amore. Esatto, esatto. Niente. No, niente, amore. Schiava e saura. Senti, schiava e saura. Dimmi tesoro. A proposito, mi è piaciuto, ascolta, mi è piaciuto molto il tuo programma, Alfie, lo visto? Grazie, amore. Veramente molto. Lascia stare l'odice che non serve a niente. Tu sei stupendo. Guarda, intanto, mi è piaciuto perché, ecco, dopo tutte queste disgrazie che ci danno, suicidi, omicidi, ecco, finalmente qualcosa di diverso. Ecco, vogliamo questo, vogliamo un po', ci dobbiamo rilassare con un tipo di televisione. Grazie. Siamo veramente tristi, troppo tristi. Vai così forte. L'ultima puntata però a sedermi lì in pubblico e ti viene da provare a dire. Oh, guarda che ti aspetto, eh, mi raccomando. Pensavo al posto della zia, volevi andare. Semmai al posto della nonna. No, quella più grande di me, no. Guarda, la zia è fortissima, magari la zia è fortissima. Senti, Malgi, ma ce l'ascoltiamo un pezzo del tuo ordine? Sono molto felice perché ti piacerà, vedrai che lo metterai sempre. Dai, ti prego, ascoltiamone un pezzo. Va ora in onda il video della nuova canzone scritta da Cristiano Malgioglio e Summa. Interprete Marcella Bella. Titolo? Malecon. Sono qui con te, abbracciata dentro me, mentre sta suonando la ballera. Ballerò con te, una tazza che non c'è. Sono molto, sono molto felice. Tra l'altro la voce che ha ascoltato subito dopo è di Lucy Frank, componente del gruppo Buenavista Social Club, una delle più grandi musici. E poi lì, se non sbaglio, era la voce della Cucinotta. Sì, Maria Grazia Cucinotta, la quale mi ha detto, io vengo per fare questo video gratis, vi sto parlando di soldi, Zucchero mi ha pagato, Conte mi ha pagato, insomma la Cucinotta, per la Marcella lo faccio gratis. Felici gli altri saranno. Che carina. Comunque sono felice di questo disco. Bravo, perché poi ha un ritmo travolgetto. Ti viene proprio da ballare. Che bello, dopo tante canzoni. Poi da Villaggio Valtur, no? Amore, ma grazie a Dio. Grazie a Dio, veramente. Se ci fossero dei brani così. Adesso mi viene, guarda, voglio avere Marcella Calispera, adesso la invito, guarda, a ballare, a ballare tutti insieme. Ma che meraviglia, questo mi fa molto piacere. Sì, è un pezzo che mette allegria, veramente. È un ritmo bacchico. Se pensa, guarda, che c'è il nostro tecnico. Igor si chiama. Amore, lo so, lo stavo dicendo, ma perché mi tolgo la parola? Questa donna vita, guarda quanto lavorava con me, mi ha tolto sempre la parola. Sempre. Alpi, ma io ti adoro. Il quale è impazzito per questo brano, lui che fa musica dal mattino alla sera. Questo mi rende molto felice. Sì, no, beh, ma... Grazie, forse. È una grande musica. Veramente bravo, Cristiano Malgioglio. Grazie. Grazie. Grazie.